E' lunghissimo il corridoio di umano di ciclisti schierati in un palcoscelico così bello che ci offre Castro. E' veramente complimenti a tutto il team del Ciclo Club Spongano perché è un team che sa organizzare eventi fatti bene. E' l'ultima di una entusiasmante stagione, l'ultima di tante disputate, di tanto sacrificio, tra pittorie e sconfitte, di tanta passione. In griglia appunto per celebrare la passione, la determinazione, la forza di tutti i rider presenti. Questa competizione è una testimonianza del duro lavoro e dell'impegno che ogni partecipante ha dedicato per arrivare fino a questo punto. E le strade di Castro e i sentieri del parco sono pronti ad accogliere i più audaci, pronti alla sfida, in una gara epica che lascerà tutti senza fiato. A voi una giornata avvincente, a noi spettatori un'esperienza indimenticabile. Amici grossi qui, amanti dello sterrato, delle salute estenuanti delle discese adrenaliniche, buongiorno e benvenuti a Castro, pronti per l'ultima battaglia in mountain bike, pronti per la X-Legend d'Italia. La Castro Legend Cup sta per conoscere nella gara internazionale UCI il suo vincitore, annunciato più volte, seguito anche dal nostro speaker in moto, Franco Casarano, e adesso apporto da Giulio Carpone al traguardo, dai vostri applausi, Andrews Stroud! E vai il grande champion! Il vincitore della X-Legend 2023! Gattazina Sosta! Grande! Gattazina Sosta!